Kevin, iniziamo dalla fine, perché è stata un'esultanza particolarmente forte oggi. Ci tenevate a tagliare oggi quota 40, direi? Sì, ci tenevamo molto a farle in casa. Sapevamo che erano tre punti fondamentali. Oggi prima partita era questo l'obiettivo, arrivare a 40 punti davanti al nostro pubblico. Quindi alla fine si è vista la grande voglia di fare questi tre punti e li abbiamo conquistati. Ecco, è stata proprio questa la chiave della partita, la voglia di vincere, perché dopo un primo tempo sofferto il Verona è riuscito a uscire. Sì, magari a differenza di altre partite, nel secondo tempo siamo cresciuti molto, abbiamo messo sotto loro, siamo stati bravi anche quando loro l'hanno riaperta subito a fare il gol del 3-1 per poi chiuderlo. Ecco, tu sei l'esempio calzante di come anche chi è entrato oggi è stato assolutamente decisivo. Sì, sì, comunque come abbiamo sempre detto ci alleniamo forte, siamo un gruppo bello compatto e chi entra è importante come chi gioca al primo minuto. Quindi oggi siamo contenti che abbiamo dato anche una marcia in più chi è entrato. Ecco, si è detto tanto, forse tutto sul pubblico del Bente Godi, però oggi c'era veramente anche una marcia in più da questo punto di vista. Sì, ma come gran parte delle partite, se non tutte di quest'anno, per via delle restrizioni alcune sono mancate un po' di pubblico, però quando si poteva veramente era un uomo in più in campo insieme a noi il Bente Godi. Adesso nessuna voglia di fermarsi, c'è una partita importante a Firenze. Sì, una partita molto dura a Firenze, loro hanno perso ieri all'ultimo minuto però sono una squadra molto ostica e quindi andremo là ovviamente a giocarci le nostre carte sapendo che sarà dura.